sto sotto la colonna spezzata è un monumento ai caduti al mare alla mia sinistra c'è vicinissimo il cassè del lobo alla mia destra c'è la villa comunale ma ora non vi parlerò di questo cioè vi voglio parlare di un'altra cosa di un street food tutto napoletano o coop e dove vado qua vicino e da chi dalla masardona andiamo insieme antica friggitoria la masardona si trova a piazza vittoria numero 5 quindi se volete assaggiare un vero coop venite qua vi raccomando soprattutto qua il corpo è una cosa seria ora andiamo a mangiare questo gruppo dalla masardona costa 4 euro vediamo cosa ci sta in c'è cosa ci sta dentro allora troppo che arancina o scaioz o crocchè panzarotte c'è bellissimo ma insieme a assaggiare il crocchè ci si prendo un pezzo buonissimo arancina ragazzi vi posso dire che comunque la frittura non si sente povero questa è la cosa importante ehi vedete guardate qua io ve lo faccio vedere ve lo faccio vedere buonissimo vabbè bello perciò dovete venire a napoli ma poi la cosa bella ve lo mangiate guardate qua stupendo ragazzi comunque basta con queste recensioni di mangiare se no qua veramente mi faccio chiatta cioè mi faccio chiatto per prima cosa ricordatevi sempre di iscrivervi al mio canale pure perché sono agostino seguimi per napoli però ma basta sto parlando troppo sto parlando troppo perché ora devo mangiare sto cuopo alla prossima mamma mia seguimi per napoli grazie 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 Agiva Belli, Spicola, Francesa, Agiva Spicola, Agiva Grazie a tutti